sapete chi è quest'uomo è tedros edenom ghebreyesus il direttore dell'oms l'organizzazione mondiale della sanità dal 2017 lui è eritreo e guardate come si scrive il suo nome in tigrino che la lingua semitica parlata dall'omonima etnia presente soprattutto in eritrea e nel nord dell'etiopia per l'appunto nel tigre wow e perché vi parlo di lui perché il 23 marzo ha fatto un video che io non ho potuto diffondere perché un certo youtubino mi aveva bloccato ingiustamente se vi ricordate a metà febbraio pubblica il video di questa giornalista maria zee che parlò del trattato pandemico se non l'avete ancora guardato vi invito a farlo è del 15 febbraio 2023 sapete che si sta sempre di più diffondendo la notizia che l'oms col nuovo trattato pandemico imporrà nuove regole agli stati e quest'ultimi dovranno applicarle pari pari per questo ghebreyesus ha fatto un video e l'ha caricato sul suo account twitter prima di vederlo in lingua originale con i miei sottotitoli in italiano leggiamo cosa ha scritto nel post nessun paese cederà nessuna sovranità all'oms i paesi decideranno cosa dice l'accordo pandemico e lo attueranno in linea con le proprie leggi nazionali qualsiasi affermazione contraria è semplicemente falsa guardiamo ora il video we continue to see misinformation on social media and in mainstream media about the pandemic accord that countries are now negotiating the claim that the accord will cede power to who is quite simply false it's fake news countries will decide what the accord says and countries alone and countries will implement the accord in line with their own national laws no country will cede any sovereignty to who if any politician business person or anyone at all is confused about what the pandemic accord is and isn't we would be more than happy to discuss it and explain it e questo è quanto adesso possiamo stare tranquilli siamo in una botte di ferro speriamo voi che idea vi siete fatti di tutto questo fatemelo sapere in un commento se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale vi siete fatti di tutto questo